Abbattere il rischio d'attesa e ridare dignità ai nostri pronto soccorso, questa sicuramente è la sfida prioritaria non appena insegnati, questa sarà la prima cosa su cui lavorare. Il termovalorizzatore è un'opera in mano al commissario, è un'opera importante per chiudere il ciclo di rifiuti, questa è anche bene sottolinearlo, la chiusura, ma bisognerà lavorare tanto perché parta l'economia circolare e quindi anche la raccolta differenziata che è ancora troppo bassa. Si può realizzare? Questo bisogna chiederlo al commissario, non lo so io, non sono io il commissario, se il commissario pensa che non ci sia impatto sulla viabilità con il parere contrario della sovraintendenza, sull'allargamento dell'ardiativa, lui ha questa responsabilità nei confronti dei cittadini perché poi si sconterà per decenni una eventuale disattenzione su quella viabilità di un'arteria così importante. Se c'è il tema della spesa storica ovviamente mi preoccupa perché potrebbe creare cittadini di serie A e di serie B, se invece si tratta di avvicinare l'amministrazione ai cittadini questa ovviamente mi vede favorevole, credo che ci sia un dibattito su questo, vedremo il testo finale, non mi sembra che nessuno voglia penalizzare i nostri cittadini, le nostre cittadine, credo che non sia nemmeno questo perché tant'è che si parlava dei decreti attuativi, non del testo, quindi non credo che nemmeno questo sia l'intenzione del ministro Calderoli, quindi aspettiamo con serenità il testo e poi esprimiamo un giudizio compiuto sulla base perché comunque l'autonomia differenziata oggi tanto criticata anche dal centro-sinistra, nel 2018 la giunta Zingaretti con i 5 Stelle l'avevano votata, quindi è evidente che è importante leggere i testi prima di avventurarsi in giudizi politici.